Veniamo al Piacentino perché dopo un anno dall'insediamento della nuova amministrazione comunale di Piacenza, le forze politiche di maggioranza si interrogano sulle priorità che la giunta di centrodestra guidata da Patrizia Barbieri dovrebbe ora affrontare. Ne parleremo in maniera dettagliata nei prossimi giorni con diversi esponenti politici piacentini. Questa sera iniziamo in studio con Gianluca Argellati che è il coordinatore provinciale dei dipartimenti di Forza Italia. Argellati buonasera. Buonasera a lei Poggi. Allora io prima di chiederle delle priorità e soprattutto dell'azione amministrativa prossima, futura, le chiedo un anno intenso indubbiamente per Patrizia Barbieri per il centrodestra. Che tipo di giudizio lei esprime? Guardi di Poggi, sicuramente il giudizio che esprimo io ma che esprime tutta Forza Italia di Piacenza a riguardo del primo anno di amministrazione di Patrizia Barbieri è sicuramente positivo. Sicuramente positivo non tanto perché il lavoro fatto da Patrizia Barbieri sia stato un lavoro straordinario nel senso che non ci si aspettava da Patrizia Barbieri questo tipo di lavoro. anzi, Patrizia Barbieri aveva delle credenziali ben note ben prima ancora delle elezioni. Ma soprattutto per la difficoltà che si è trovata ad affrontare Patrizia Barbieri nell'ambito politico piacentino, basti pensare agli ultimi 15 anni di giunta di centrosinistra, quindi uno scenario apocalittico trovato all'interno del comune stesso e anche, direi soprattutto, perché a pochi giorni dalle elezioni di Patrizia Barbieri con lo scandalo dei furbetti e del cartellino si è trovata la metà delle forze all'interno degli uffici comunali. Ultimo e non ultimo, notizia di questi giorni, ed è sintomatico della forza di Patrizia Barbieri e della propria giunta, la decisione da parte del Consiglio Comunale di destinare, quindi di non destinare ad area destinata al nuovo ospedale che verrà a Piacenza, l'area della Partite, quindi lasciare l'area della Partite e l'area dell'ex Lusignani come area libere, facendo fede e fronte a quello che erano state le promesse fatte in campagna elettorale. Tra l'altro Piacenza vive da anni, molti anni, troppi anni, delle criticità piuttosto gravi, a cominciare da quelle ambientali, quindi la qualità dell'aria ma anche i tanti troppi inquinanti che caratterizzano il territorio piacentino e più in generale della pianura padana. Tra l'altro la scelta di un sindaco passato, Roberto Reggi, di dedicare a Piacenza il nome di capitale della logistica, io sinceramente non l'ho mai capito perché la logistica significa milioni di camion e di automezzi pesanti all'anno che distruggono le strade, caricano e scaricano, però io non ho mai capito qual è il valore aggiunto della logistica, anche perché lo sapete a livello impiegatizio e di operai siamo veramente alla base, non c'è formazione, il più delle volte sono cooperative. Ecco, quindi l'inquinamento è sicuramente uno dei primi punti dell'agenda della nuova amministrazione, è così? Assolutamente sì, lei ha ricordato effettivamente l'inutilità di destinare Piacenza a polo logistico, ma soprattutto io essendo lavorando nel privato sono abituato a progettare l'infrastruttura prima di progettare il nucleo del progetto stesso, quindi se si voleva destinare Piacenza a una logistica bisognava in primo luogo progettare le infrastrutture che portassero Piacenza a non subire i danni della logistica, lei ha ricordato effettivamente i danni sulle strade, strade non percorribili, non facilmente percorribili, facilmente si può pensare che quando piove si allagano le strade, ecco questo è l'ennesimo regalo che si è trovato a Patrizio Barbieri a dover affrontare, sicuramente è sul suo tavolo, sicuramente lo sta affrontando e per quanto mi riguarda lo sta affrontando nel migliore dei modi e Piacenza da qua ai prossimi 4 anni riconoscerà questo sforzo che la Giunta sta facendo in questo momento. No, poi tra l'altro, tra virgolette, si sorprendono del successo agroalimentare della vicina Parma, e vabbè Parma dedica le risorse al prosciutto crudo, addirittura alla Coppa di Parma, quando è di Piacenza, mentre Piacenza è riuscita a dedicare le sue attenzioni negli anni ai camio e ai mezzi pesanti. Poi fatevi la domanda e spesso datevi la risposta. Ieri era il 4 luglio, festa patronale di Sant'Antonino, patrono di Piacenza, il sindaco Patrizia Barbieri ha consegnato come d'abitudine il cero votivo al vescovo di Piacenza. Direi che mancano 4 anni, no? Abbiamo davanti 4 anni di mandato. Che tipo di auspicio viene formulato da Forza Italia? L'auspicio, sicuramente primario, è quello di riuscire a rispondere a tutte le esigenze dei cittadini piacentini, risolvendo e cercando di risolvere i problemi che i cittadini si trovano ad affrontare quotidianamente. Io direi come primo obiettivo a tendere è quello di risanare le aree problematiche, come l'area di Porta Roma, della lupa, dove effettivamente il degrado sociale è arrivato a livelli non più sostenibili. Io so che Patrizia Barbieri e la Giunta si sta operando fortemente perché questo venga risolto, perché anche questo era uno dei punti cardini del nostro programma elettorale. Torneremo, come anticipato, ad occuparci di Piacenza e delle priorità di quel territorio così affascinante, ma anche così complesso e difficile. Per il momento grazie a Gianluca Argellati per Forza Italia. Grazie a lei Poggi e grazie ai suoi telespettatori. Grazie a tutti.